In una terra molto molto lontana c'è un regno incantato dove le aspiranti principesse possono seguire i loro sogni e coltivare i loro talenti. È un luogo incantato dove è possibile imparare tante cose e scoprire il vero significato dell'essere una principessa. Benvenute alla Princess Academy! Entrate in un mondo meraviglioso dove il vostro viaggio avrà inizio con un magico incontro. In questo luogo le nuove amicizie danno sempre il via a meravigliose avventure. Qui i talenti nascosti riescono ad emergere e i sogni possono davvero diventare realtà. Le aspiranti principesse possono imparare a essere eleganti e leali come Belle, aggraziate e armoniose come Aurora, energiche e intraprendenti come Ariel, e entusiaste e creative come Rapunzel, amorevoli e gentili come Cenerentola e generose come Tiana. Un aspirante principessa impara che soltanto quando riuscirà a credere davvero in se stessa e negli altri. La vera magia avrà inizio. La Princess Academy è un posto dove nascono i ricordi. Ricordi che dureranno per sempre.